Musica Un cordiale saluto, buongiorno, ben ritrovati a tutti voi cari telespettatori di FanoTV Siete sul canale 17 per la rassegna stampa del mattino Siamo in diretta come sempre alle 7.30 e oggi è il 25 di aprile La Chiesa Cattolica ricorda San Marco Evangelista Di San Marco Evangelista possiamo dire che era ebreo di origine Nasce probabilmente nell'odierna Cirene, nella Libia attuale, da una famiglia benestante San Pietro lo chiama figlio mio, lo porta sicuramente con sé nei viaggi missionari in Oriente e a Roma Dove scrive il Vangelo Il sole è sorto alle 6.09 e tramonterà alle 20.03 Che tempo farà oggi? Vabbè, diciamo anche che il 25 di aprile è il giorno in cui l'Italia festeggia la liberazione Dall'oppressione nazifascista E oggi ci sono tante iniziative sparse qua e là Poi, dicevamo il tempo Oggi avremo cielo sereno poco nuvoloso Con precipitazioni però che arriveranno con locali rovescio temporali nel pomeriggio Soprattutto nelle zone montane dell'Appennino Vedete la grafica di questo bollettino che troverete su internet Quello della protezione civile delle marche Le temperature sono senza variazione di rilievo oggi Per la giornata di domani ancora avremo in mattinata un tempo parzialmente nuvoloso Con aumento della copertura nel pomeriggio Infatti le precipitazioni saranno sparse nel pomeriggio a carattere di rovescio temporale Nel settore montano della regione Ma arriveranno le piogge anche Faranno capolino anche sulle province di Pesero e Ancona Limitatamente appunto alla costa Le temperature sono ancora senza variazione di rilievo Il tempo migliore per il fine settimana Con la giornata di sabato Che si presenterà serena o poco nuvolosa nell'entroterra Le temperature ancora senza variazione di rilievo Non c'è granché da segnalare Se non ancora instabilità tra le giornate di domenica e di lunedì Adesso andiamo a vedere a sfogliare i giornali Partiamo dal Corriere Adriatico In primo piano la notizia della morte di un giovane Che è avvenuta nel quartiere di Sant'Orso a Fano Vittima un 29enne Che prima chatta con un collega della Croce Rossa Poi decide di farla finita E si spara un colpo di pistola alla testa Una tragedia come dicevamo che è avvenuta in un quartiere fanese E poi a centropagina la fotografia di una barca Di uno yacht che farà scalo con la Croazia 200 passeggeri oggi partono per la Croazia Sarazzara la scommessa di questa estate Ma Monet quest'anno non attraccherà in Porto E in primo piano, sempre sulla pagina del Corriere Adriatico La vicenda dei rimborsi, dei truffati di Banca Marche È arrivato l'ok del governo E sotto il caso della fornitura di farmaci C'è un ricorso al TAR per il maxi appalto regionale E poi la cronaca ancora con il direttore di banca Che scopre a un faccia a faccia con il ladro Questa invece è la pagina del resto del Carlino Ero pronto a tutto, è un virgolettato Sono le parole riferite all'avvocato Che ieri ha incontrato in carcere Matteo Cicerchia E che ha svelato i dettagli del suo folle piano Voleva uccidere l'ex compagna Dalla quale si era separato ormai da cinque anni Bancario faccia a faccia con il ladro Anche qui in primo piano Poi la storia che, la storia già raccontata in realtà Dal quotidiano bolognese, il resto del Carlino Di un emigrante, una persona che ha lasciato Soltanto cinque anni fa Urbino Con pochi soldi in tasca È andato negli Stati Uniti E là ha fatto fortuna Diventando, pensate, il re del gelato E poi la tragedia di Giorgio 29 anni, tragedia che ha colpito La Croce Rossa italiana Poi si parla anche di viabilità In primo piano con il traffico in tilt Ancora a Pesaro E poi il 25 aprile C'è ancora tanto bisogno di antifascismo Apriamo la pagina però di Fano del Carlino Apriamo la nostra rassegna stampa Nelle pagine interne Andiamo a vedere la tragedia Che ha colpito la famiglia Spezzi Giorgio aveva 29 anni Viveva con la famiglia Sant'Orso Era un dipendente, come dicevamo Della Croce Rossa italiana I colleghi parlano di lui Come un ragazzo d'oro E non si capacitano Di come possa aver deciso Così di farla finita Era sempre puntualissimo Abbiamo pensato Che non avesse sentito la sveglia Per questo abbiamo, dicono Aspettato fino alle 10.30 del mattino E poi abbiamo detto Andiamo a sbrandarlo Andiamo a tirarlo giù dal letto In pratica E però purtroppo poi La tragica scoperta E un tuffo invece negli anni 70 In memoria di Peppe Nigra Scomparso 5 anni fa Gli amici del comico Che è scomparso appunto nel 2014 Ricorderete È stato trovato morto Per Un problema di salute Stanno organizzando una serata Le prenotazioni sono al via È una serata a tema A tema anni 70 Dicono gli organizzatori È importante Per chi Volesse Per chi decide Di partecipare È obbligatorio L'abbigliamento Appunto A tema anni 70 L'agguato di Pasquetta Siamo sempre sul resto del calino Matteo si è pentito Aveva perso la testa Tentato omicidio L'avvocato parla di Cicerchia Dopo averlo incontrato In carcere Sono due Gli avvocati Ieri è stato visitato Nel parlatoio del carcere Di Villa Fastigi Gli avvocati sono Roberto Pierelli E Giovanni Orciani Davanti Domani ci sarà questo interrogatorio Del GIP In carcere per la convalida È sotto controllo È rinchiuso in celle Il regime di isolamento Ed è guardato a vista Anche perché potrebbe ancora avere Istinti suicidi E la causa Si cerca di capire il perché Questo raptus di follia Probabilmente sono state Le confidenze di Elisa L'ex compagna Che gli aveva fatto Il giorno prima E l'hanno fatto piombare Nei suoi incubi Gli aveva detto Gli aveva detto Semplicemente che Aveva una nuova storia Aveva un'altra storia Ma io credo che sia importante Sottolineare anche Questa dichiarazione Che ha rilasciato L'avvocato Orciani Al giornale Parlando appunto Di Matteo Cicerchia È un giovane Che non sta bene Conclude Dice ancora L'avvocato Orciani Ma non è un mostro Va seguito E recuperato Soprattutto perché Ha solo 27 anni È una psiche da curare Poi dice Certo Deve fare i conti Con l'atto gravissimo Che ha fatto E non avrà esitazione A raccontare i suoi incubi Ad ammettere Le sue responsabilità Al giudice E quindi Questo credo sia Un punto Sul quale Bisogna Bisogna soffermarsi Soprattutto noi Che facciamo informazione Sempre pronti A sbattere Il mostro In primo piano Non giustifichiamo Assolutamente nulla Ma non dimentichiamoci Che dietro ci sono Delle storie Ci sono delle famiglie Pensiamo al papà Di Matteo Che si è sentito male Pensate quanta disperazione C'è in questo momento E noi siamo qua A raccontarlo Davanti a una pagina Di giornale Quindi sia noi Che scriviamo Sia noi che parliamo Dobbiamo stare Sempre molto attenti Alle parole che diciamo È comunque Un ragazzo Che certamente Ha ancora una vita Davanti E che adesso È tutta in salita Ma ha bisogno Dell'aiuto di tutti E poi Chiaramente Ringraziamo il cielo Perché tutto è andato Per il meglio E sia la bambina Sia la ex compagna Stanno bene Chiusa parentesi Andiamo avanti Matteo ha capito Quello che ha fatto È consapevole Del trauma Soprattutto sulla Sulla figlioletta Di 5 anni Si dice pentito Il legale Orientato A chiedere Una perizia Psichiatrica Domani ci sarà L'interrogatorio Intanto Sempre sul Corriere Adriatico Danneggiati I manifesti Di Baiocchi Baiocchi è il candidato Del centrodestra Che sfida Matteo Ricci Per diventare Sindaco di Pesaro Ma appunto Proprio perché Sono stati danneggiati Guardate I manifesti Tutti divelti Buttati giù a terra In cassa La solidarietà Bipartisan Sia da destra Che sinistra È successo Questo La celletta Vogliono Dicono Delegittimarci Ma ci stiamo Si stanno sbagliando E poi le iniziative Per la giornata di oggi Per il 25 aprile Il parco del monumento La resistenza Diventerà protagonista Della giornata Faccia a faccia Con il ladro In bagno Il direttore Sventa un colpo In filiale L'obiettivo Era quello Di farsi trovare A sorpresa Dentro la banca Al momento dell'apertura Per poi minacciare Il personale E andare alla cassaforte Del banco Matteo Farsela aprire La notte prima Aveva smontato Aveva insomma Rotto le inferiate Della finestra Del bagno Dalla quale poi Si è inserito dentro Intorno alle 7.55 Di ieri mattina Alla filiale Di banca intesa A Monte Labbate Parliamo adesso Delle bandiere blu Invece Perché anche quest'anno Anche se non c'è nulla Di ufficiale Ma sono arrivate Le lettere di convocazione A Roma Per cui si dà per scontato Che la FE Che assegna le bandiere blu Ogni anno Alle spiagge migliori D'Italia Abbia comunque Convocato quelli Che anche quest'anno L'hanno meritata Questa bandiera blu Per il 2019 Per Fano È il quindicesimo Anno consecutivo E le spiagge Che dovrebbero Appunto essere Premiate sono Sassonia Fino ai Bagni Sergio Fano Nord Da Gimarra Fosso Signore E da dopo Ponte Metauro Fino alla fine Di Torrette Dovrebbero invece Rimanere fuori L'Arzilla La spiaggia dell'Arzilla Il Lido E un tratto Di Ponte Sasso Ma ricordiamo Appunto ancora una volta Che non c'era ufficialità Ma dovrebbe essere così Cercasi disperatamente Un vigile urbano Invece Parla il comandante Della polizia locale Di Pesaro Gianni Galdenzi Che dice Che dice Qui è tutto fermo I concorsi Sono bloccati Fino al prossimo settembre Però purtroppo Molti rifiutano I contratti brevi L'ultimo assunto Ha 62 anni Per l'estate 2019 Pensate Sono stati presi Addirittura in prestito Questi poliziotti Ne sono stati assunti Seda cattolica Che però Li rivuole Praticamente Entro un mese E Galdenzi Spiega un po' Perché si è arrivati A questa situazione Dice Abbiamo a disposizione Dei vincitori Di concorso A tempo indeterminato I quali però Non accettano Di lasciare Dei lavori Che hanno già in corso Per fare I precari stagionali Cioè per lavorare Solo qualche mese Durante l'estate Siamo a Urbino Qui tutto bello A parte i posti a tavola Perché? Perché tantissimi turisti Sono arrivati E stanno arrivando Per i ponti Compreso questo Però Dicono La città è bellissima È stupenda Ma i ristoranti Sono praticamente Quasi tutti chiusi Ed è assurdo Vedere una città Importante Turistica Come Urbino Con i ristoranti chiusi Dal centro Alla periferia Torniamo ancora a Pesaro Siamo sul Carlino Il grande ingorgo La viabilità Non funziona ancora a Pesaro Coda infinita In via Canale Via Solferino Sulla statale Per lavori di asfaltatura Martedì In viale della liberazione La coda Era arrivata Fino a Porta Rimini E molti sono Gli automobilisti Che si lamentano Hanno segnalato In alcune zone La mancanza Di vigili L'assessore Belloni Dice abbiamo approfittato Delle scuole chiuse Per limitare I disagi E sulle strade chiuse La notizia trova spazio Anche sul Corriere La rabbia al volante Pochi cartelli E niente preavvisi Lunghe file per i lavori Di asfaltatura E ripristino Su via Solferino E tra le vie Canale E della liberazione Poi Sulle spiagge Invece Quelle pesaresi C'è il risveglio E lasciò Urbino Per andare negli Stati Uniti Ora in Florida Scorazza in Ferrari Per gestire I numerosi punti vendita Della sua grande catena Di gelateria Che fattura Oltre 10 milioni di euro E questa bella storia Di Stefano Versace Che vedete qui Imposa Sul divano di casa Con la famiglia E i figli Che ha 43 anni E che il prossimo 22 maggio Tornerà in Urbino Per tenere All'università Della città Carlo Bo Una lezione Sul food business Sicuramente È una bella storia Anche perché Consideriamo Che è successo Tutto nel giro Di 5 anni Quindi 5 anni Sono pochi Ed è cambiata La vita A lui E chiaramente Anche a tutta la famiglia Andiamo Andiamo sulla pagina Di Fano Ancora del Corriere Adriatico Nuova sosta Ed eventi Di richiamo Così riparte Il commercio Nel centro storico Di Fano Le proposte Sono della candidata Del centrodestra Lucia Tarsi Disco orario Bus navette Parcheggio multipiano Al foro Boario Per la Tarsi Utile Un sistema veloce Di rotazione Per le manifestazioni Serve un direttore Artistico Dice lei E per i negozianti La vendita Sul web La proposta Lanciata dalla Lega Contro la crisi La piattaforma Deve essere Del comune Apertura sperimentale Del corso Siamo a Fossombrone Dati da acquisire Per la decisione Favorevole L'osservatorio cittadino Contrario Anche all'isola Pedonale Notturna E poi sulla Colle Marathon Esperienza Di marketing Per lo sport E sotto Sempre Sulle pagine Del Corriere Via Siamo sempre a Fossombrone Via Pergamino Pericolosa Petizione Senza risposta I residenti Attendono Un incontro Con il sindaco Anche Per la questione Degli allagamenti Da Mondolfo Quattro giorni Con i garagoi Fra gastronomia E tradizione Marotta Al via La settantaduesima edizione Economia del mare E gara Tra quattordici Ristoratori Quest'anno Anche un torneo sportivo In spiaggia A Mondavio Il pubblico Finanzia il teatro Di ricerca Il direttore artistico Poalasini Spiega la ragione Dei diciotto Sold out Poi da Senigallia Invece Costi troppo alti Per la sicurezza Addio al dialetto Nelle frazioni Cancellata La rassegna Di teatro Itinerante L'assessore dice I luoghi scelti Purtroppo Non sono idonei E questa era L'ultima notizia Di quelle segnalate Di quelle scelte Per la rassegna Stampa di oggi Io vi ringrazio Per averci seguito Vi auguro Una buona giornata E vi do appuntamento Questa sera Alle 20.30 Con il telegiornale Occhio alla notizia Arrivederci I luoghi scelti I luoghi scelti I luoghi scelti I luoghi scelti